sto laggando cazzo ma dov'è tutta la gentaglia? è il capannone rosso arrivo ma è incredibilmente incredibile non è vero non è vero non è vero io chiese aia aia non so che sceglie stasca stasca eh si che in due ti basti bastarti un po' oppure campino ah beh ragazza un po' in colonia per coppita tutta colpa sua aaaah e' scazzata cazzo urli vanno abbandonano perchè devo abbandonare la vince se la vinci sembra che vanno è sempre ieri si編 si 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 ma villaggi per essere il capo del mondo sono l'articolo aiutino quando con un punto posare a scopo a e all'arte ma per ci sono due spettatori arriva l'apparco e la scuola like d'obbligo a dire pure le ma mamma mia quanta qualità per i tuoi c'è un bucci c'è un bucci c'è un cazzo vuoi giocare con la tastiera con i tuoi fatti con i tuoi come te chiami su youtube eeeh vanno 05 tiub vanno 05 quello l'haga porco e vabbè ma non gli entra un colpo a uno fino a basso in serie 5 matto eeeh tiub si attaccavano vanno 05 vanno 05 vanno 05 tiub 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 vanno che annale oh stai laggando troppo oh vanno 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 trattino massa 05 tube t-o-b-e attaccato dubbi no non c'è non me lo danno intanto 3 kill vaffanculo vanno 05 ciao hub ho portato gli insulti eh non so capito vanno 05 trattino basso tube ho portato gli insulti cazzo ma è tim lo ha capito abba e che professionalità signori perchè è tutta questa professionalità guarda come si posiziona la tastiera ancora più storta ma io oggi ho giocato tutto il giorno così sai che mi trovo da dio oggi ho fatto un po' di parco giochi nel buildare e buildavo come un forse nari è andato a summer skirmish quello lì lui in verticale proprio no lui proprio così cioè lui così è tasca c'è quello quello che vedete la scesce non è che troppo è come se non la c'è troia to va bene c'è io pure c'è un canale ecco bravo come ti chiami e no no ma non ma non ma non ma non sto sfasciando no no è uscito oh ma è non usciva mai sto coso coso pikachu quando ti scrivano esce quando ti scrivi esce staccato giro io ho visto perchè era figo pikachu che correva oh perchè hai 126 iscritti e non hai contenuti ma che cazzo no l'ho cancellato il tuo canale perchè si chiama lary sai così mi disiscrivo poi mi riscrivo perchè voglio vedere la che e me lo so se funziona prova però è bello vedere pikachu non ho fatto e se ti donassi eh ma non ci sono tanti ma perchè quando mi sono scritto io è apparto sì sì non ho scritto davvero non ho scritto si mi trovo a scrivere io ma non ti sento che professionalità o eh ma tu cioè streammi dal computer certo hai fatto pure che streammo minchia ma te ah dai ah dai ah dai ah dai fatti la pietra che faccia oh no quello li non vuole mio padre oh porca merda non vuole scherzo no non c'è scherzo no no eh che cazzo tanto di giorno quando vengono non vengono non vengono no che l'acqua è ma ti vedi una ma non c'è ne ho una e penso di essere nella merda questa è mia tutta la vita vieni io faccio una vampo ti do questo se vuoi passare il vampa ma ho l'argo la posizionata quello sgla danna dammi una mano però in qua non c'è chi no c'è una due oh 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 lì dai colpi 17 togli ho messo per fuori è molto bello vede 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 baiaco cazzo cazzo minchia mancuna volta l'abbiamo pigliato in 2 eh farà questo qua bussiano come dei ma come cazzo bussiano questi ma figli e una terra porco schifo dai 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 vedi dai dai la città la cittadina non posso perdere non c'è si ma non l'hai chiamato e lui no però aiutami c'è già il cecchino e arriva al solito grande la città un po c'è altra gente a occhio non ho colpito no dai che sono mio parco schifo ma hai detto che cazzo eh meglio a confermare dai tasca dov'è? ah figa se è capitato c'hanno sfondato uuuh c'è entrata fra no no c'è entrato ciao che abbiamo scritto sempre questo c'è sempre sto io no scusa cazzo vuoi sempre fammi le schifo fatela te ma 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 cazzo 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 scusate se c'è qualche terreno in live non volevo insultare cazzo cazzo che cazzo è successo cazzo 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 ma se tipo facessi un canale youtube e mi chiamassi cdn cazzo fчас cat kidnapped vediamo in.iat il 1 nome cazzo mar vaffanculo se capito non vedo ricambiarno no io non cdn il mio compito di un'armer non poter che le armi iniziali si che cazzo io mi ammierò il ciccio si vede tutto sbileno ciò ha fatto anche il sito prima che anche se si vede tutto sbilenco e mi ha spiegato che si vede tutto sbilenco vado diretto al pompa come si chiama il tuo computer? eh Larry eh Larry o io prendo le MSI le MSI mi costa un po' però vaffanculo ti fa un bel computer così potrei fare anche c'è uno che lo assemblo io però te lo assemblo io e boh se tipo un giorno ci troviamo rai a sono un montatore nato, ho montato quello di PG compriamo le robe su Amazon e poi quando mi arrivano le assembliamo che magari spendo anche meno di comprarle a me e rb devi comprare la video buono che devi fare anche tu eh buona madre ma non è vero monitor monitor ma però manca una tv cazzo e compro monitor e schieravide prendo mi sa che prendo quello che c'ha Alpho e Samsung tipo furbo ma spendo un botto 200 euro per un monte ma ecco quello dell'altra volta ma avrà spesa migliaia di euro sul computer eeeh 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 ma a me non me ne frega quanto grosso mai eeeh eeeh baiatolo pagato sotto il 200 euro altrucicentos ma mi trovi sua mamma fa la stessa la stessa la stessa la stessa il solito pietro fare ma non ciò che mi chiede già le vere bene ne abbiamo fatto già tanti non batto facile le faccio ah madonna ma già fate quelle raga porca troia sei davanti voi sei dietro ma non sono le spi no le faccio sono facili tipo le amiche quella leggere e ascoltare eeeh sono tipo dialoghi e si comprensione si ma che sa che la fai un discorso non so farlo ma si siii no 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 e' a petto c'è un'altra dai vai a con il mio via la vera in cambio del buon e ballerine no no grazie mi servirebbe un errore un po' migliore ragazzi cazzo mi spiega cerchiamo cerchiamo no non pensa che c'è nessuna cazzo di palmetto guarda c'è in gisola costruzione sulla sulla dov'hanno costruito la città figlia raga io li tiro le bombe ballerine foo po' 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 io ho già seccato i due ragazzi no uno ecco no che bastardo prego tasca perca pittà la stima tu fai c'è un altro altro si chi avrà lo meteo si chi fa io li tengo i medici se lo vuoi c'è un lancio granate raga perchè lo vuole io lo voglio io lo voglio O MA VIFFAIN CULOO a forza e un il mio padre ecco la terza era un cazzo di scarse iniziata come si può dire a te vieni qua vieni qua anche di pompa se vuoi si vieni ma bravo dai di prima fare le 156 di headshot e prima l'avevo già in casa non è morto se non faccio c'è un po' 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 e' un po' e' un po' e' un po' della verità se fa fa culo però che cazzo c'è un po' ma io non lo so dai che fa non volevo sprecare la legna io per prendere sta roba prendi i fulli prendi i fulli ma io sono full raga volete i shieldini c'è già o eh e' figa mi avete detto prendi i shieldi e prendi i funghetti e ho detto i fulli servono i shield vieni il taschino andrò no no grazie 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 stai scambiare sono già al massimo degno io sto giocando con i fatti di orientino sono qui con la fiorentina eh raga qua da sprofondo eh hanno appena finito di feitare tanto anche arrivo bro non l'ho visto però si non domani spero che non mi abbia visto perché era bello quello più impante questo qua ce n'è uno a dritto però non lo sparo quello che io ho il caccio con il caccio con il caccio con il il cuore lo vuoi no 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 è pieno di cecchi non è vero sì c'è quella 10 colpi fra u come buono è e vaffanculo però ma t quasi sono bravi eh no questi sono bravi da far paura no 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 se la parte a teatro tipo 2 colpi no che va sfarbi come vuoi no raga no ma non mi switch non mi switch aspettate il materiale cazzo io mi devo scegliare un attimo perché ha rotto qua raga ma il mio mouse si sta svinchiando non gira più bene la rotella lo sfrutto così pericolo l'alberto 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 ma che cazzo stasera scuola l'alberto l'alberto percorso il caso di tutto l'alberto ma ma cosa sta dietro dai mi ha fatto cadere qua 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 c'è uno qua c'è uno quantomeno non ha fatto cadere no raga che cazzo ferma pure no no che cazzo ok una terra guai 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 sopra di te sopra di te sta scendendo dai vai a mira cazzo mi cercatela ho ucciso zlatan perchè ho ucciso zlatan ma ho ucciso tasca perchè la devi camere qua ti spetta solo i due vabbè ma perchè ti ho ammazzato tasca a prestigio dove era lui che è la vallucini la sorella ha detto che si vede tutto sbilenco eh ma non ho capito in che senso la tastiera l'ho messo io storta cosa che la chiamano le fiegel esatto se non ci sono io con la mia intelligenza figli che sono morto scusa guardo io Matteo scusa guardo io Matteo anzi ha scritto teo si vede il rutto sbilenco eh lei non è italiano eh si vede il rutto sbilenco e si vede il rutto sbilenco e questo fa lì insomma il dito ma piato qualcosa ma perchè la mia rotella non va ma raga anche se diventa famoso la prospettiva ma fa fa culo ma ma fra che che cazzo di di miniatura ha fatto ma che di miniatura ho fatto cosi eh ma che migliorato ho commesso io non mi ricordo che cazzo mia avevo messo fra eh faccio con la vecchia mi sa che c'è ancora con la vecchia rapide paci fa così cagare c'è ancora unitalia perché è bella non è che cagare ma fa pagare eh ma rapide rapide perchè pinna ci va tanta gente perché pinna fatica ma finna ce l'ulta per favore cara per favore mi piace ma buona e un po' per un po' grazie c'è un team intero contro raga io non so son bene tasca no veramente viene perchè c'è un team contro ma fa culo che cazzo sono morto grande tasca no grande tasca cazzo fatto per i conto sti coglioni insomma materiali per costruirci spazio ragazzo ha tolto sessantane ormai 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 raccamburano e e i 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 in e me no ma cd noi che ne sono per 4 spettatori lì davanti a male partecipanti terra sono ah dietro non ho più materiale cazzo e io ci do dappertutto ma che si chiudi youtube gaming grado no ma qua sono ultime video puoi cambiare miniatura adesso? ehm ma si te mara ma si te mara ma si te mara ma ce le ho tutte salvate tanto io la trovo io la bella miniatura da shaman la decine scopo la del mondo ho dato tra venti minuti vado cambio ma vaffancora la canzone ma la cambio no non tanto tra venti minuti vado ma io devo andare fin lì adesso come devi andare fin lì adesso? eh non lì adesso perchè volevo io però visto che ho già fatto l'inter non vado chi viene l'inter? ma va volevo vedere le partite a caso? ma si cacchio me ne frega questo per io devo comprare il pappetino non mica l'avevi trovato eh eh si guarda questo e compra l'avevi trovato ieri cazzo e dopo quando vado tappetino è come il mio col moppa mondo che è figo col moppa mondo wow stiamo a qualsiasi apporto porto dai copriano apporto opaccio la corsa automatica povicini cioè più pratico il pallo io non vedo l'ora di natale abbiamo un'ora della nuova ci arriva la città mamma 30 volte faccio come al solito sono caseregne cambiamo caso per mercoledì vado serenio weekend una volta a lec una volta serenio almeno quando sono a lec o gioco alla play e quando sono serenio gioco il computer e quanta gente io non ho una casa così non ti alvi bene con me stasera ah si devi portarti avanti io dormo stasera se vuoi che è la play ma ti devo guardare te perchè non mi guarda cazzo guarda quanto mi guarda te fate conto che non c'è mai che balla ah ah e vaffanculo dal dietro ma fate schifo a giocare uh 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 dai jolly uccidilo dai ragazzi mi vado a nascondere ciao fate no non riesco a passare sotto non riesco a passare sotto no mi uccide mi uccide raga tu vieni dentro tu vieni dentro eacca tu vieni dentro non mi vedi ma non mi uccide tasca 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 dai due tipo eh c'è una serie da cuore c'è un bel c'è un bel c'è 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 ma io voglio rivedere la parte dove scena la lalala lalala arie per il video la madre avesse di scrivi si è sempre da te metti no no unico 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 in ieri si ma non c'è l'opzione per tornare ma non è nascito ma io faccio uscire si mette magari la imprecisa precisa ecco mattini io ho messo guarda no fra ma non l'ho messo ma si conosce perché non esce scusa dopo di spammo il canale dopo granto vai ma ti eri già ti sei disscritto e riscritto si e va bene così si ma ah io adesso 30 33 rapido passatempo recidete passa 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 pp pp adesso cerco di buildare più pesantemente che più posto no 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 i sostenizi vorrei giocare così tu giochi storto con le dita cazzo tu c'è che con l'anulare per correre gioco queste parolone non te l'ho mai sentire malformazione manco pensavo che non la collezionante e c'è gente ma c'è ma c'è ma c'è ma cosa sta succedendo qua ora la portica no raga help 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 dove siamo tasca scusa occhio occhio tasca nei due ti vota fuori io sono amo ok un eliminato Ah Sparco due Coglione muori Coglioni Coglioni No raga ce n'era qua una terra Dov'è? Eh boh No raga non l'ho arrestato Stanno qua Voglio ammarci definitivamente così Non li rendono più Mio No non ci arrivo Mamma mia quanto sono messo male E' fra i due armi Io ho doppio di sale E' pompa Eh ben agili avete perchè sono messo di merda e c'è E' vero 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 Grazie E' vero E' vero E' vero E' vero I due E' vero E' vero E' vero fa come hai fatto città c'è l'involgimento basso del soliamo tipo al parato a scherzo pure uomo . 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 l'ha pratico ma ma check nei quattro colorati di un colore quanti sono vincolato o 2 unita a quel bastardo è entrato a te lo dico che cazzo mi spara cazzo ma non ma passato mamma fai pieno eh questa è morta no fra me pieno ma mi voglio io se ma che cazzo è ma cazzo non mi lascio manco il tempo di andare figo manco il tempo di andare via mi fanno ma ti manco il tempo ecco io faccio l'ultima raga io i i i leone 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 ma non è mai uscita xd mette le piccole la tasca ma prima quando si è scritto al tuo amico è uscito pikachu in un'altra ma anche sempre ma tu l'hai visto un po' non lo vedo io c'è stato da dietro non l'ho visto ma si lo scelto io ma lo so scegliere che qualunque caso ma non lo voglio ciccio ma ciccio quello lì è suo lo lascia lui ciccio che battella ma è tanta roba io mi lascio il mio pikachu che corre metti uno ex porcone o no? una coca cola no no metti quello lì metti quello che è spacca la tastiera metti quello che è spacca la tastiera metti quello che è spacca la tastiera che si incazza e si spacca la tastiera chi cazzo è? e boh uno fa molto così è bello che ci hanno ucciso e si incazzata e ha spezzato la tastiera e si dice chi cazzo è ethnics? io ho visto che io non c'è non c'è nessuno è bello che mi salta di dubbio da stilare c non c'è nessuno ma perchè mi deve incurare la casa brutto coglione aia e vabbè è bello giocare con voi l'onore l'azienda l'azienda a cascaria e tranquillo dove è faccio e nella casetta metà non andare a vero ok vede jaco c'è un bel pompa qua sotto e lui non la preso no 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 la ok ok stuporata no si è maragalli si impaffato tutto c'è ma curva mi sono impappato c'è dato chiamavatele sparare mi sono messo a filmare ricca grazie a papà palazzo ingle me ciò che mi sono portato questo video post di spazio e non è perché così tanto l'anno mi fate un'altra ma si chieda la nata l'idea la cura il schifo di stessi stessi qualsiasi questo è un po' di colpasso nella calva d'anno a 25 euro ho visto in settimana la casa io un po la ricorda di una parte come scuola acqua un po spazio estremi dal computer vero è bello vedere pikachu no dai lo ha cancellato tutti il tuo canale l'ha visto che ha fatto biondo, che si chiama Larry l'hai visto? che si è fatto biondo certo che l'ho visto. gioca con mio fratello ne ho soffattato che ne abbiano giorno come fratello ne abbiano giorno dove? tempio domani ci siete ancora a vostra per la live serali di martedì di black che palle che la settimana è iniziata e non ce la faccio già più andare a scuola e mi pensi che mancano carombo il pari settimana fa mancano un bel po' maledì che jacob che viene bocciata non fa il culo, c'è lo bocciato viene che vuoi il comportamento cazzo di quanto hai il comportamento? ho doppia ma va ho solamente mi avete abbandonato qua la sua no non hai detto il look che c'era sotto il palazzo si chiama tasca ma perchè se prende il puttana i piedi qua io ho un po' una ricerca infatti la mina 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 ma non lo faccio in mente sh la vita non è potuto pure in tre colpi alla vinilica mentre lui fa e noi siamo qua a parlare della fina st la mia amica la mia amica l'ha incollato tutto la mia amica eh vabbè facciami qualcosa io ho 30 colpi di r hello no 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 a rampa lo volevo io to 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 maeremma maya maeremma maya ahahah eh vieni qua ho messo maligno una doppia attenta ma lei aveva doppiatta ma che fa ti to' arrabbi vieni l'indicazione quando mi arraggiorno ma la fanno lo stesso danno ma vaffanculo ora ragazzi facciamo non c'è chi lo il film è stato nato in attività pure ora non è la città e i vieti o 300 di legna no vaffanculo vada la bomba pesante l'inglese dov'è anche perché non vi conviene basta che non la fila la vinabil guarda la vinabil va a retto no vinabil no mi fanno me ne vado ciao io non gioco con persone che giocano con la vinabil vinabil vado c'è un materiale no te lo do il materiale avevo colpito ecco il numero 7 non posso darli io ero una 12 me ne do 6 uuu addirittura brava ragazzi intanto oh mi parano un edge a te unito da 22 e uno da 44 si ma raga sono due rinqua il bagnine bianco raga il bagnine bianco raga porca merce ci sto sentendo la madonna eh per rolle c troppo più calcio la mano ragionando come devastare di queste scuola ma cosa per passare parca merda porco merdo o come ma contatto matti porca merce un po' non vado in grado test depo porca mercello ricordi per un legge spazzolini tutto convinto vai per vestigliare alla fine di farca merce non dio storie voglio vedermelo in live no fa me la era vecchissimo sto cosa qua oggi questa acqua ma questa mamma ricorda il pietro del pietro del pietro del pietro ovvieni qua poca merce qua ma che cazzo perchè parla, una voce diversa sul tuo computer non è cazzo che cazzo sei emozionato perchè ha detto porta merce si dov'è? io dirai un burghetto no 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 io dirai piena raga chissi uuuuh senti si uuuuh 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 la casa facciamo un'altra cosa porca merce era il piccolo tasca che mi stava disturbando oh io non vorrei morire da voi ma raga laggo 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 cosa sto laggo uuuuuh uuuuh o è qua? ragazzi scherziamo qua dove è giro holly quella puttana? è morto dai lasciamolo chiudere no che buffardo no no mia 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 oh tenete questo ho preso uno scudo è anche uno scudine colpi di pompa guys non ne ho tanti però raga prima la cavo adesso torna tutto normale ma fai come dire merce 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 qua guarda 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 coglione cosa mi rubi o ma naga qua è pieno di ben di dio c'è uno scambio iniziato colpi di pompa colpi di aeree polpa io ne ho quattro io ho quattro medici per me servono a mano quanti ne avete 160 quali del posto dare lecce è fatte da riavola eh i jacob mi servono compi di pompa me però e io ho quattro io vi do tutto grazie jacob per un caricatore intero si si no va bene va bene va bene e non ce l'ho venite qua venite qua venite qua venite qua venite qua eh sono già un po' lontano io no no vieni qua ma sono qua sopra raga vieni ma cazzo vieni qua oh ma venite qua ma non abbiamo vite e poi ci amo no poi qua c'è gente qua c'è gente qua c'è un cazzo di galaxy perché sei sceso direttamente ma 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 non per dire raga qua sotto vai 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 tasca vai tasca non lo vedo raga vai tasca vai tasca non viet c calmi 14 2 st e in scenario dai schifo tasca ecco padre e i copi rompa 15 lepia l'articolo 5 riserva azzurro portato il dac città cittadini e vede a parte della cittadina cittadina la primavera di ragazza la scuola della cittadina di guadalasca la camera lasciati e poi potuto non è vero 2 metà ea come va giù un'altra vendaggio io ero io ero io ero siamo più portati e jacopo il 4 tra io ero la coppia corti foto lanciatrazzi 4 5 4 jaco già sentito stavola la tor AL servine che ass qui su sc st cazzo ciao è sparito ah no anche me oggi mi è successo che uno aperto la cassa non ha trovato un cazzo oh sei 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 oddio raga ciao raga che bastardo io non ce l'ho pure io ce l'ho vaffanculo grazie aspettiamo i sei oh tasca tasca vieni qua prendere il coso dopo si ma che cazzo la jumping arco 2 fra mi sono fatto anche male perchè ho letto cioè io mi sono anche fatto male per andare a prendere quella merda di jumpino ma siamo seri vendaggi ragazzi eh non abbiamo una minchia scuola non c'è nessuno tra gli anni con la città vabbè di armi anch'io però mancano i colpi perché ti serve che era un bambino un bambino un bambino non c'è se lo meno io porco scuola giampa ragazzo giampa 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 io ho fatto male io l'ho di gara ho fatto tipo cinquenta uno però non sa che sono io perchè sono lontano 10 minuti la cassa mi ha fatto la città il compagno è c'è il corso le dici le dici avete mangiare da armi no no tanti c'è un'ottima di ok t chi è secondo te che vuol vuole 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 rara tipo fatto solo ecciata la gente ma solo ecciato fatto l'amore materiali occhi alla safe no no dietro e ho visto ma ci spara dai cazzo mi ero appena fatto lo giuro non ci sto credendo non ci credo a uno di vita questo è fratti se però da me ok ok chiediamo la ma it non c'è solo